La CGL Abruzzo e Molise e la CGL di Teramo scendono in campo per la prevenzione e il contrasto alla discriminazione e violenza di genere nel linguaggio, nella cultura e nel mondo del lavoro. Lo fanno attraverso un concorso rivolto agli studenti dell'Università di Teramo dal titolo Libertà e diritti alle donne. Un premio che avrà lo scopo di stimolare una riflessione tra le giovani generazioni sulla matrice culturale di abusi e violenze. Si potrà concorrere attraverso un testo scritto o un'opera multimediale. Un premio per ribadire libertà e diritti delle donne. Sì, oggi presentiamo il concorso Libertà e diritti delle donne rivolto agli studenti dell'Università di Teramo per stimolare una riflessione sul contrasto e sulla prevenzione della discriminazione di genere e soprattutto sulla matrice culturale che questo purtroppo si porta dietro. Cosa dovranno fare gli studenti? Gli studenti potranno presentare in modo collettivo oppure individuale un'opera, letteraria oppure multimediale, opere che è possibile presentare dal 1 di ottobre al 31 dicembre 2020. Il bando di questo concorso sarà consultabile sul sito della CGL di Teramo www.cglteramo.it e sul sito dell'Università di Teramo www.unite.it. Chi valuterà questi elaborati? Ci sarà nominata una commissione tecnica presieduta dalla segretaria Susanna Camusso che si occupa del responsabile delle politiche di genere e chiaramente un componente di questa commissione tecnica sarà nominato dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo proprio per il tema che stiamo affrontando. Lei pensa che c'è ancora bisogno di ricordare che ci vogliono diritti per le donne? Assolutamente sì, la questione femminile purtroppo è una questione che la politica in generale non prende in considerazione. Pensiamo sempre che la questione femminile occupi soltanto una metà della società. In realtà se non ci rendiamo conto che occupa la totalità della società non ci renderemo mai davvero una società democratica e giusta. La premiazione del concorso promosso dalla CGL è prevista per l'8 marzo 2021, giornata simbolo dei diritti della donna in tutto il mondo.